Pubblicato il bando per potenziare il servizio del 118 durante mesi estivi, l'ASL di Salerno si organizza e come ogni anno cerca di venire incontro alle rinnovate esigenze del territorio preso d'assalto durante la bella stagione dai turisti e pronto a raddoppiare la propria popolazione e le chiamate d'emergenza. Per il 2013 sono stati stanziati 451 mila euro per tutta l'area afferente all'ASL di Salerno. Le postazioni per il 118 e il servizio di trasporto infermi in più rispetto alle già esistenti sono state dislocate per quanto riguarda la provincia sud lungo la litorania Ponte Cagnano Battipaia, a Santa Maria di Castellabate, a Ciaroli, a Scea e Marina di Camerota, visto che risultano le aree costiere più frequentate e anche quelle più periferiche, cioè meno servite o più lontane dagli ospedali del territorio. Ognuna di queste postazioni sarà attiva dal 1 luglio al 1 settembre e lavorerà a H24 costando all'ASL 33 mila euro. Non ci sono grosse novità rispetto agli anni precedenti, il periodo di riferimento non è più fino al 15 settembre come capitava fino a qualche anno fa, ma la nuova organizzazione è stata decisa sulla base della domanda registrata nelle state passate e punta a ricoprire l'intero territorio. Ora, fino al 7 giugno, è possibile presentare domanda per partecipare al bando indetto dall'ASL. Nei giorni seguenti si espletteranno le operazioni necessarie per scegliere chi svolgerà questo servizio aggiuntivo del 118 nelle postazioni di riferimento per il 2013.